Ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandici e il bivio A1 variante di Valico. Nello stesso tratto in direzione Roma, coda per traffico intenso. In Fipilì, 6 km di coda in direzione Firenze per incidente tra il bivio Fipilì di Ramazione Pisa e Ponte d'Era Est. Nella stessa strada, dal 20 al 24 luglio per la volia alla strada provinciale 44 a cura della provincia di Pisa, ci sarà la chiusura dello svincolo di Santa Croce sull'Arno. Nel raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Donato e Tavarnelle, chiuso lo svincolo di Tavarnelle in direzione Firenze fino al termine dei lavori. A Firenze fino al 1 settembre, lavori di ampliamento in via Panciatichi, con divieto di transito sulla direttrice Panciatichi steccuto e chiusura di via della ghiaccia. Muoversi in Toscana, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altri informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!